Al via anche nella Asli di Teramo la prima fase riservata agli operatori sanitari della campagna di vaccinazione anti-covid-19, dopo il vaccino dei del 27 dicembre che ha dato il via simbolico. 657 è il numero del personale medico che verrà vaccinato tra oggi e domani nei quattro presidi ospedalieri Teramo, Atri, Giulianova e Santomero. Sono 1170 le dosi ad oggi a disposizione dell'azienda sanitaria locale. Nel Teramano sono 4.687 gli operatori che si sono iscritti nella piattaforma regionale, mentre sono 1.460 gli anziani ospiti nelle strutture. Un evento importantissimo, speriamo che adesso continuino ad arrivare gli altri vaccini per iniziare tutto il vero iter per la vaccinazione prima degli operatori sanitari, poi delle altre strutture RSA e RA, medici di base, pediatri per la scelta, medici di professionisti, per poi iniziare a passare alle altre categorie, le scuole, forse dell'ordine e infine per le popolazioni, iniziando dalle indicazioni che sono state fornite dal Ministero della Sanità e dal Commissario Arcuri. Ci vuole efficienza, velocità, in maniera tale che tutte le operazioni vengano fatte in tempi brevissimi, perché prima si fa e prima si argina questo diffondersi del virus. Per la giornata di sabato e domenica sono 657, che sono state poi suddivise in proporzione fra i quattro presidi, Terra Moardi, Giulianova e Sant'Omero. Si parte, sono i primi due giorni, continueremo lunedì e martedì per concludere tutte le persone, tutti i sanitari che si sono iscritti sulla piattaforma e per poi poter passare all'RSA e RA sul territorio. Ovviamente l'augurio è che i vaccini arrivino con scadenza settimanale. Ci hanno comunicato da Invitalia che i vaccini arrivano con scadenza settimanale, ne sono già previsti altrettanti per la settimana prossima, per cui noi daremo continuità alle vaccinazioni, ripeto, seguendo il calendario che abbiamo stabilito e abbiamo deciso. L'obiettivo è vaccinare tutti, perché dobbiamo arrivare a quello che è l'obiettivo, cioè ospedali covid free, quindi tutto il personale che lavora all'interno dell'ospedale deve essere vaccinato.